Bella lago coanex e bentornati sul canale oggi siamo qui No, volevo solo essere simpatico Non lo sei ok? Non lo sei 7, 8, 9 Questi sono banane Siamo tornati su webs Quest'oggi vedremo l'attacco malsano tra 100.000 zombie contro 1.000 tx Cominciamo subito con una bella eye challenge Perché so che quest'oggi fremete dalla voglia di lasciare il mi piace Girando anche la mano e lasciando proprio mi piace così E ragazzi solamente chi dovesse riuscire a lasciare il mi piace in questa maniera Verrà proprio istigato a commentarmi sotto Patata Patata? Non so noi andiamo dietro alla corteccia ma da voi si dice patata e quindi patata Patata sotto nei commenti ragazzi tu li siamo già a posto Prima di fare l'attacco malsano ragazzi andiamo subito a preparare Ovvero faremo sfidare 250 orchi malsani contro Santa Claus Ragazzi andremo contro Babbo Natale E il primo malattissimo scontro Santa va a avviare Allora Santa come la mettiamo? Tra poco il tuo momento eh Ma si sti doni i regali i bambini mi sono rotto il cazzo Insomma io sono di un altro partito ecco In che senso? Sta a sentire Ok Santa andiamo a vedere i tuoi amici che è meglio Avete qualcosa da dire prima dello scontro? No! Gli amore combattete! Santa Claus pesta agli orchi Chi vincerà? Lo zucchero filato o la sciamola da che babbaro? Chi vincerà? Guardate ragazzi il sangue, la legna, la potatura di anime che succede in questo episodio Come gli orchi trenciano male Babbo Natale che non si dà per vinto E lo stesso pesta anche lui Come se quegli orchi fossero la sua eterna lotta contro il colesterolo Attenzione! I nostri chiamabari senza pietà ammazzano tutti Santa Claus Ragazzi se quest'anno non avrete Babbo Natale Il motivo è questo Oltre che si dà la scena trap viene maciullato male dagli orchi Io Santa Claus contro al panino con carne non identificata Vince il panino! Dov'è il tipo di prima il trapparo? Non lo trovo Santa? Allò? Un cenno di vita me lo fai? Santa non muore come le proglie Può vendere il culo ma tiene l'onore C'ho barba e cappello ma poco pisela Metterlo pisela e ci aiuto anche quello Ciao Ciao Disney 1000 T-Rex contro 100 1000 zombie Ragazzi questa sarà pura carneficina ragazzi Un pollicione per la carneficina Perché quest'oggi oltre a vedere il sangue Vedremo le valvole e il mio computer orbitare Comincia lo scontro Ragazzi guardate la quantità di zombie che ci sono in questa mappa Dalla panoramica in cima riusciamo a vedere benissimo quanti sono gli zombie E guardate le fauce dei nostri T-Rex Hanno voglia, hanno fame Vogliono triturare tutti gli zombie E noi quest'oggi gli daremo impasto Vedremo se 1000 T-Rex riusciranno a sbranarseli tutti Oppure no C'erano che siete belli grossi eh signori T-Rex Ecco ragazzi Mi date di conto andare contro delle bestie con delle vascelle così Letteramente orribili Come gli amici quando a scuola ti chiedono il morso di un panino La bocca è uguale Comincia lo scontro Ragazzi comincia letteralmente questo scontro Malsano Ho preso un T-Rex Adesso mangiamoli tutti Mangiamoli tutti Mangia 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 Ho detto di mangiare Mangia tutti questi Zambastri Dai Oh guarda che ti pestano Mangiali Bravo Così Così Se Mangiali tutti Se Un altro Un altro ancora Un altro ancora Una bella boccata Così mi piace Così bravissimo ragazzi Guardate quanto li hanno già uccisi 26.000 zombie sono già stati uccisi Contro Oh ragazzi hanno già ucciso 230 T-Rex Attenzione ragazzi Veramente anche gli zombie sono cattivissimi Dall'altro ci fa vedere quanto quanto cavolo si è combattuta Regà guardate come diavolo è combattuta Molti T-Rex sono morti Molti stanno ancora divorando tutti gli zombie che arrivano Senza paura addosso C'è che puto Sono già morti ragazzi C'è chi è che ha meno paura di uno che è già morto Mia madre Ragazzi colpo di scena Gli zombie stanno avendo la meglio contro gli T-Rex Attenzione ragazzi Ci ne mancano veramente pochissimi Veramente pochi L'ultimo Superstit Non ce la fa Le creature Del diavolo Vincolo Gli zombie ragazzi Uccidono La bellezza Di mille T-Rex Ma perdendo A 72.000 unità Veramente Un qualcosa di incredibile E niente Io con questo ragazzi Temino fa anche questo video Io spero di aver divertito Per qualche minuto Ditemi se ne volete Un prossimo episodio E mi raccomando iscrivetevelo qua sotto nei commenti Fate tutti i link qua sotto E se ne scrivete i commenti Come al solito E se anche voi non volete più ascoltare Santa Trapparo Iscrivetevi al canale E vi saluto Vai messo tutto